La partita legata ai fondi europei di Next Generation EU, che in Italia si traducono nel PNRR, quindi programma di investimenti, è molto più grossa, decisiva e pericolosa di quanto l'enormità di quei fondi non lasci intendere. Qualche volta si racconta l'Italia dal dopoguerra ristrutta, il piano Marshall ci ha fatto ripartire. Il piano Marshall dal dopoguerra era molto più piccolo, anche in relazione alla nostra ricchezza, di quanto non sia quel piano di fondi europei. Perdere l'occasione, non essere capaci di investirli, oltre a perdere tutti quei soldi, comporta delle conseguenze drammatiche. Primo, quando l'Italia chiederà nuovamente di poter fare un po' più di deficit, sarà evidente che quel deficit in più, quella spesa in pubblica in più che intende fare, è destinata esclusivamente alla dilapidazione della spesa corrente, perché gli investimenti siete stati voi a dire di non saperli fare. Avevate a disposizione un ammontare di soldi enorme e non ci siete riusciti. Secondo, quando l'Italia continuerà a ripetere sostanzialmente a se stessa la gnagnera che fa l'Europa? Ci hanno lasciato da soli. Dice ragazzi, il contribuente europeo non ha mai garantito somme così grandi in cui non ha mai fatto un regalo così grosso di fondi a un paese europeo e non ha mai fornito un ammontare così alto di prestiti a tasso agevolato ad altri paesi europei. Siete voi i destinatari di tutta questa ricchezza? Ce l'ha restituiti? Dite, non la so usare, quindi tenetevela. Non puoi domani dire che ci avete lasciato da soli, sei mentalmente da solo terzo. Quando domani ci si dovesse trovare di fronte può capitare. Ha una nuova speculazione sui debiti sovrani e l'Italia ha un debito enorme. Noi cosa faremo quel giorno? Diremo che bisogna federalizzare una parte dei debiti, l'abbiamo già detto in passato. Dobbiamo fare gli euro bond per tal che il debito sia complessivo o solidale tra i paesi europei? Diventerà una richiesta ridicola. Perché? Perché i fondi raccolti con titoli di pubblici di debito europeo esistono già. Erano diretti a voi italiani e non li avete saputi usare. Come fai quel giorno a chiedere solidarietà di quel tipo? Eppure, davanti all'evidenza di questi fatti, e dico, è a tacere dei soldi che eventualmente si perderebbero. Qui è una gara. Ogni giorno c'è qualcuno del governo che dice siamo in ritardo, non ce la si può fare, queste opere non sono realizzabili. Dove la logica di queste dichiarazioni è che la responsabilità non è nostra e del governo precedente. Ora, a parte il fatto che tutti i controlli relativi precedentemente hanno dimostrato, i controlli europei hanno dimostrato che non c'erano ritardi. A parte il secondo fatto che siete una coalizione di tre partiti, di cui due facevano parte del precedente governo, quindi che cavolo di tesi è? Ma a parte questo, ma guardate che attribuire la colpa, quando anche ci riusciste, non modifica le dimensioni della drammatica sconfitta italiana. Non modifica una realtà nella quale perdi un'occasione che non si ripeterà, che non si ripresenterà in un futuro prevedibile. Quindi, testa bassa e pedalare, mettersi a lavorare. E non è vero che non si possono spendere quei soldi perché gli impicci burocratici, i cantiere, i prezzi, non diciamo cretinate, perché siamo in ritardo, per esempio, sul codice appalti, che se entra in vigore, visto le polemiche che ci sono, se entra in vigore, entra in vigore a luglio. Cosa ci impediva di scriverlo prima? Era già preparato dal governo Draghi. Cosa ci impediva di farlo prima? Quale governo Draghi? Gli ultimi mesi l'ha passato mentre gli altri facevano campagna elettorale. Si è rinviata la discussione della legge sulla concorrenza. Cosa ci impedisce di fare una legge in cui la concorrenza spinge gli investimenti, spinge la produttività, spinge la crescita della ricchezza, fa crescere i salari? Cosa ci trattiene? La norma sugli ambulanti? Mettersi d'accordo su come si fanno le svendite? Non diciamo cretinate. Ci trattiene il fatto che fare la concorrenza significa rompere alcune rendite di posizioni, compresa quella dei balneari di cui parliamo da anni, sembriamo matti. Interesse minuscolo, miserrimo rispetto all'interesse nazionale. Attenti perché qui ci si fa del male e vale anche per l'opposizione, perché nessuno creda di poter approfittare del fallimento del governo, perché sarebbe un fallimento dell'Italia.